siamo nuovamente bloccati con la macchina il lampeggiante indica un movimento qui non ci sono allarmi qui non ci sono allarmi la navetta è pronta per ricevere il pallet l'insulta comunque in marcia il pk è a posto non ha movimenti che non ha fatto l'mp risulta a posto non ci sono allarmi il re giusto è online non ha allarmi e anche qui non risulta nessun allarme di resto non c'è